E' scivolato su una lingua di neve durante un'escursione a Pizzo Cefalone sul Gran Sasso, per poi precipitare nel dirupo per centinaia di metri. Marco Pecoraio, 58 anni di Roma, è morto durante un'escursione nell'ultimo giorno dell'anno. A dare l'allarme è stato l'amico che era con lui, un 46enne anch'egli romano, che resosi conto di quanto era accaduto, ha immediatamente chiesto aiuto e fatto scattare i soccorsi. La tragedia si è consumata intorno alle 13 del 31 dicembre, quando Marco Pecoraio è precipitato in un dirupo tra Monte Portella e Pizzo Cefalone per circa 300 metri, mentre percorreva un passaggio particolarmente impegnativo e pericoloso. Difficoltose e complesse, anche a causa delle condizioni meteorologiche, le operazioni di soccorso a cui hanno partecipato i militari della Guardia di Finanza, le squadre dei vigili del fuoco ed i volontari del soccorso alpino della stazione dell'Aquila. Intorno alle 18 è stato raggiunto e tratto in salvo l'escursionista che aveva lanciato l'allarme, quindi è stato individuato il corpo della vittima. Le operazioni di recupero si sono protratte per ore e si sono concluse poco prima della mezzanotte. La notizia della tragica morte dell'escursionista romano ha destato profondo sconcerto e gettato nella disperazione i suoi familiari ed amici. Straziata dal dolore la sorella Patrizia, che con un post pubblicato sui social non riesce a darsi una spiegazione per quanto accaduto. Sulla tragedia, come da prassi, la procura di L'Aquila ha aperto un fascicolo e su disposizione del magistrato la salma di Marco Pecoraio verrà riconsegnata subito ai suoi familiari che potranno così disporre le esequie.